spaghetti con l'uovo fritto ingredienti 350 grammi di spaghetti o bucatini 4 uova mezzo bicchiere di olio di oliva peperoncini in polvere 6 cucchiaiate di formaggio grana sale preparazione cottura 30 minuti difficoltà minima per quattro persone lasciate la pasta in abbondante acqua salata quando sarà circa metà cottura iniziata a friggere le uova versate l'olio in un padellino mette i recipienti sul fuoco e mentre si scalda sgusciate in una ciotola un uovo senza rompere il tuorlo poi salatelo ad anda salare solo l'albume quando l'olio inizia a fumare leggermente abbassate il fuoco inclinati su un latte i recipienti e fate scivolare l'uovo del punto dove l'olio è più abbondante con la paletta portate l'allume attorno al tuorlo quando l'albume si sarà leggermente rassodato capovolgete velocemente l'uovo e lasciatelo cuocere ancora per un istante quindi scolatelo e ponetelo sul piatto e procedendo allo stesso modo cuocete le altre uova poi tenetele in caldo scolate la pasta versata in una ciotola amalgamatevi il formaggio il piperoncino e polvere e parte dell'olio che è servito per freggere le uova sistemate sulla pasta queste ultime e servitela subito ben caldo varianti potete usare lo stesso procedimento sostituendo l'olio con 120 grani di burro il gusto sarà diverso ma altrettanto buono